Penne alla crema di carciofi con parmigiano Un primo piatto saporito e leggero, ideale per tutte le stagioni e che si può preparare anche a gennaio. Una ricetta facile da preparare che prevede l'utilizzo di pochi ingredienti a base di carciofi freschi, crema di parmigiano, prezzemolo e penne. Gli ingredienti necessari sono 4 carciofi 1 mezzo bicchiere di latte 3 cucchiai di parmigiano 1 cucchiaio di prezzemolo 1 mezzo cipolla 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 200 grammi di penne Ecco come preparare questo piatto in pochi e semplici passi. Pulire i carciofi, tagliarli a spicchi e metterli a bagno in acqua e limone. In una casseruola far soffriggere la cipolla con l'olio, aggiungere i carciofi e far cuocere per 10 minuti. Unire il latte, il parmigiano, il prezzemolo e lasciare cuocere a fuoco lento per 10 minuti. Frullare il tutto fino ad ottenere una crema omogenea. Lessare le penne in abbondante acqua salata e scolarle al dente. In una padella far saltare le penne con il sugo di carciofi e servire.